guarda io credo che 30 anni fa io penso di parlare anche a nome degli altri ci immaginavamo che avremmo continuato a suonare e che avremmo continuato a fare le cose che abbiamo sempre fatto se posso dire una cosa che non mi sarei mai immaginato è di trovarmi nel presente che stiamo vivendo per esempio io una cosa sulla quale riflettavamo qualche giorno fa in furgone è che per esempio quando ci fu la guerra in Iraq se tu dicevi che Saddam Hussein era un dittatore nessuno ti veniva a dire che allora eri a favore dell'invasione della Nato o dei bombardamenti Nato oggi invece se tu dici magari che Zalensky è un oligarca che tra l'altro la verità viene immediatamente tacciato di essere a favore di Putin noi non avremmo mai immaginato che una serie di accadimenti che iniziano nel 2001 con i fatti tragici di Genova ci avessero portati a un presente così tanto lontano dal mondo che noi tra l'altro con tante compagni e compagni di Radio Sherwood, di Margherita e di Rivolta ci immaginavamo di costruire. Comunque il dato più importante è che quando abbiamo incominciato non ci pensavamo proprio di arrivare a 30 anni dopo proprio vivi, cioè non avevamo piani per... è vero in noi convivono almeno in una parte, ma credo di poter parlare in nome di tutti convivono con lo stesso diritto, con la stessa dignità il no future del punk e il venceremos del comunismo che sono un po' incompatibili l'uno con l'altro però noi ce l'abbiamo più o meno nella stessa percentuale dentro e sulle cose che riguardano il futuro prevale sempre la visione del punk noi non ce lo siamo mai proprio posti il problema del domani o del dopodomani abbiamo sempre vissuto l'oggi come se un domani non ci fosse Ok ci avete convinto Noi nella musica abbiamo sempre cercato questo la possibilità di risolvere quello che un nostro coetaneo Chaos One ha definito il fastidio Noi vivevamo e viviamo ancora questa condizione di fastidio nella società è un fastidio generale perché è un fastidio generato dalla difficoltà di sentirsi rappresentati in qualsiasi ambito, da quello culturale a quello sociale a quello architettonico non c'è quasi niente che ci rappresenti e quindi tutto quello, tutti i piccoli e grandi e medi spazi di agibilità politica, culturale, che dir si voglia ce li siamo conquistati con la lotta e nel nostro caso con la musica di lotta e quindi non sappiamo fare altro perché questo è il modo con cui sopravviviamo da quando eravamo piccoli non so quanto questo oggi possa influenzare un giovane o non possa influenzare un giovane e in realtà il problema non credo che ce lo siamo mai posti non ci siamo mai considerati un gruppo di educatori che devono arrivare e devono indicare delle strade noi abbiamo raccontato le nostre periferie cercando di tirarle su da una condizione di abbandono e di periferia culturale che non ritenevamo meritassero in quanto periferie, anzi per noi la periferia è stato il brodo culturale quello da cui è nato tutto l'orgoglio di essere periferia è in due parole quello che noi proviamo a cantare da 30 anni guarda aggiungo solo una cosa noi abbiamo sempre detto di essere stati spesso ci siamo definiti il megafono del movimento ecco io credo che di fatto noi ma come qualsiasi musicista, artista può essere un megafono ma se non c'è un movimento di cui diventare megafono basto e steso che crea, che produce senso che forma quella che Levi chiamava l'intelligenza collettiva poi succede che viviamo nella scemenza collettiva ecco insomma c'è uno scollamento tra tutto tra i compagni e le compagne prima di tutto e poi anche tra la musica di protesta e le situazioni di protesta è tutto diventato un po' più complesso in questo periodo navighiamo a vento e ogni tanto incrociamo le rotte diciamo così però va anche bene così la storia è sempre stata ciclica ho voluto provare a ribadire a cercare qual è il ruolo del fascismo nei confronti dei poteri forti durante il ventennio in cui il fascismo effettivamente ha governato ha dittato come si dice? quando ha fatto una dittatura ha dittatorato nel nostro paese questa cosa si può anche cercare nei libri di storia io per esempio sono contentissimo del successo dell'Euginea che adesso si chiamano così in primis perché sono amici anzi in secundis il motivo principale è che mi fa piacere che ci siano che hanno dimostrato che si può avere successo avere tournei importantissimi in luoghi importantissimi tournei internazionali finire il radio avere un grande riscontro di pubblico anche avendo il coraggio di fare quello che non va di moda questo è una cosa perché è una cosa che a me a me mi entristisce un po' è l'appiattimento al mainstream poi detto questo io credo che ci sia molto fermento non solo in campagna a Napoli ovunque io credo che ci sia poco spazio per tantissimi gruppi che magari fanno ricerca, innovazione che provano a uscire fuori dal coro perché purtroppo gli spazi delle radio dei festival dei club e in alcuni casi anche delle situazioni nostre tendono a a inseguire i gusti del pubblico e non a forgiarli per cui danno spazio sempre agli stessi gruppi e questi gruppi bravissimi non riescono a divergere se non per esempio i 99 posti 10 volte al festival di radio ma perché non se ne restano a Napoli a casa loro e facciamo sono pure terroni mi dicono e tra l'altro e ogni volta che vengono in Veneto 10-15% di leghisti in più cioè non lo so io credo che la nostra storia ma come la storia di tanti gruppi della nostra generazione dimostra che tu se vuoi rimanere fedele ai tuoi principi diciamo etici e artistici con delle difficoltà ma puoi farlo anche lavorando in delle situazioni mainstream cioè io tutta la scena anni 90 a un certo punto è finita con le major eppure comunque quasi tutti abbiamo mantenuto una nostra coerenza in alcuni casi ci sono stati dei cambiamenti vaga nel senso che loro ti dicono li vuoi i soldi e facciamo tutto noi e tu gli devi rispondere no non li voglio i tuoi fottuti soldi perché voglio fare tutto io se fai così sei in grado di innescare un rapporto molto simile a quello che c'è tra l'operaio e il suo datore di lavoro dentro tra una fabbrica un sano rapporto di conflittualità di classe tra l'artista che produce il bene e il capitalista che 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 ha i mezzi di produzione per farglielo per farglielo realizzare noi l'abbiamo sempre pensato così il nostro rapporto con le major nel alla fine breve nel se consideri 30 anni complessivi di attività nel breve periodo in cui abbiamo avuto questa esperienza esperienza nella quale tra l'altro ci siamo ritrovati perché noi stavamo con un indipendente che era fallita e in quanto beni di questa azienda fallita siamo stati messi all'asta e acquistati dalla multinazionale con la quale però siamo riusciti a firmare un contratto che blindava tutte le nostre quelle che noi ritenevamo essere delle garanzie fondamentali dalla libertà artistica all'ultima parola su tutto al prezzo imposto insomma tante piccole grandi cose che si sono viste per un breve periodo nel mondo delle multinazionali e poi sono scomparsi insieme a noi e alla nostra apparizione dentro a quel mondo in generale oggi una delle poche cose buone della distruzione totale del mondo della musica così come eravamo abituati a conoscerlo è il fatto che questi mercanti abbiamo perso gran parte dei motivi per cui magari la gente prima faceva carte false per andarci oggi sei chiunque è in grado di fare da sé di fare spesso anche meglio di quanto non possano fare loro c'è tanta creatività in tutti gli ambiti sia quello delle produzioni dei beat che in quello della scrittura che in quello del videomaking della promozione ci sono persone giovani al passo coi tempi che pensano delle strategie promozionali fuori dagli schemi che funzionano magari molto meglio di quelle pensate da queste vecchie cariatidi che vivevano nel secolo scorso annitate sul dorso della iena della social democrazia come direbbe un vetero comunista quindi tutto sommato quindi si può fare si può fare ma provare a fare da sé è comunque sempre la strada migliore anche perché un conto è se a un certo punto della tua carriera che tu stai portando avanti da solo attiri l'attenzione di qualcuno e questo qualcuno deve venire da te a chiederti di entrare nella sua scuderia tu hai sicuramente quel minimo di potere contrattuale che ti serve per poter ottenere queste cose di cui noi parlavamo se noi fossimo andati a bussare da tutte le porte da subito senza avere prima puntato su quello che avevamo da dire senza aver prima provveduto da soli a realizzarlo probabilmente al momento in cui ci presentavamo con le nostre richieste ci avrebbero riso in faccia o semplicemente chiuso la porta in faccia invece siamo riusciti proprio perché abbiamo prima praticato l'autoproduzione l'autogestione noi ancora oggi dopo 30 anni siamo prima di tutto un gruppo di amici ognuno dei quali aveva delle caratteristiche e sulle quali abbiamo investito in alcuni casi è andata bene e in alcuni casi un po' peggio e viva Radio Sherwood